Non lo so, bisogna domandare alla signora Che fai tu? Mi hai portato il mio figlio? No Solo video Video? Beh, anche foto Ma tutti i video che hai fatto, anche dei concerti Dei puricantores? Grazie 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 Viglia mia Viglia mia Sembra come l'avete Viglia mia Viglia mia Un giorno Come si accende la luce lì? Allora, che vuoi, bisogna attaccare il filo? Ah, con la prolunga? E' bene lavorare, basta saltare, basta così che... Viene anche la luce in mezzo. Viene la luce in mezzo. Viene la luce in mezzo. Viene la luce in mezzo. Ma perchè? C'è il tempo che io stavo a fare. Si è passato in rapidità a queste cose. Ha fatto i giri. Magari lei, perché? Non so, non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so, non so. Non so, 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 non so. I primi compiti che ha fatto tutto, che si chiamava Enac. Oggi c'era una grande, ma si occupava tutta una stanza, con infinità di altre piccole gureture dei sottocassette qua. Adesso, c'è una roba così, è un po' con miliardi di compiti... Grazie a tutti.